I've been, I've been asked to present in Italian, so thank you very much to Professor Cittadini, Mr. Moderator, it's a pleasure to be presented by Professor Doné, and I will, I will try to, cercherò di dare una visione leggermente diversa rispetto a quanto viene abitualmente presentato sui risultati che possono essere ottenuti dalla chirurgia o dalla fertilizzazione in vitro nelle donne con endometriosi e infertilità. Normalmente non parlerei di inseminazione intrauterina, vi sono diverse organizzazioni scientifiche che oramai sconsigliano l'impiego dell'inseminazione intrauterina nelle donne infertili con endometriosi perché è stato dimostrato che la probabilità di sviluppare endometriomi durante le multiple stimolazioni ovariche è maggiore rispetto alle stimolazioni durante i cicli di fertilizzazione in vitro. Questo probabilmente perché durante le stimolazioni per la fertilizzazione in vitro, contrariamente a quelle per l'inseminazione intrauterina, non si arriva all'ovulazione, le cellule uovo vengono aspirate prima. Ma indipendentemente da questo io affronterò questi due aspetti e cercherò di convincervi o quantomeno testerò l'ipotesi che noi dobbiamo veramente smettere di stare così ossessivamente attenti al famoso livello di probabilità del 5%, il P inferiore di 0,05. Dobbiamo davvero cercare di dimenticarcelo, metterlo da parte e pensare in termini di effect size, in termini di entità del potenziale beneficio che noi possiamo ottenere da queste procedure nelle varie condizioni cliniche. Perché l'obiettivo non sarà soltanto quello di dimostrare quanto può fare una cosa o l'altra e cosa è meglio fare in una condizione o l'altra, ma quanto avere sempre bene in mente che noi dobbiamo offrire alla paziente un bilancio, un bilancio tra potenziali benefici e potenziali danni. E questo bilancio che come vedremo va oltre il concepimento per sé, deve essere un bilancio che ovviamente per come vedremo è molto variabile da condizione a condizione, cioè non c'è la paziente con endometriosi, ci sono tante pazienti che hanno tante forme diverse di endometriosi. Prima di tutto dobbiamo, almeno questa è una mia personale posizione, cioè dobbiamo smettere veramente le vesti della medicina paternalistica e dobbiamo fornire alla paziente dati, dobbiamo fornire numeri, essere, dare una informazione il più quantitativa possibile, perché solo dando un'informazione quantitativa e facilmente comprensibile, quindi non si parla di rischi relativi, di odds ratio, si parla di percentuali crude, di numeri crudi, semplici, che tutti possano capire, possiamo mettere la paziente nelle condizioni di poter valutare le varie opzioni terapeutiche e decidere quale, tra le varie, si confà maggiormente alle proprie priorità. C'è una paziente che può avere come priorità la limitazione massima dei rischi chirurgici, c'è una paziente che viceversa non vuole essere sottoposta a cicli di stimolazione o ha le sue ragioni per non voler effettuare fertilizzazione in vitro e quindi dobbiamo mettere al centro della decisione la paziente. Affronterò diverse situazioni brevemente, quindi l'endometriosi peritoneale, l'endometriosi ovarica, l'endometriosi rettovaginale, le lesioni colorettali e la valutazione, brevemente la valutazione della chirurgia pre-fertilizzazione in vitro, se vi è un senso. Allora, noi sappiamo oramai tutto su cosa può dare la chirurgia laparoscopica per l'endometriosi peritoneale, ma io prendo sempre questo ambito, questo capitolo, anche nelle mie lezioni agli studenti, perché è veramente emblematico e paradigmatico di come la metodologia della ricerca clinica possa cambiare totalmente le evidenze che noi alla fine possiamo offrire alle nostre pazienti. E bisogna qui ricordare, tante persone qui dentro si ricorderanno, che durante gli anni Ottanta diversi studi dicevano che la laserizzazione, l'elettrocoagulazione, la scissione chirurgica delle lesioni minime, quindi l'endometriosi peritoneale, portava a successi riproduttivi in donne infertili del 60-70%. Sono arrivati gli unici studi randomizzati, controllati sull'argomento. Ve ne è anche un terzo, ma non è stato poi pubblicato come articolo regolare su una rivista, quindi questi sono gli unici due studi che sono stati regolarmente pubblicati. Il canadese dice che c'è un vantaggio, l'italiano dice che non ci sono vantaggi. Il pooling dei dati di questi due studi cosa dice? Di nuovo, ecco qui, effect size rispetto al valore di P. Certo, il pooling dei dati dice che c'è un effetto in termini di probabilità meno di 0,05. La vogliamo mettere in questo modo? Sì, i risultati sono statisticamente significativi. La vogliamo mettere invece in termini di effect size? Allora, mettendola in termini di effect size, noi sappiamo che dobbiamo effettuare più di 12 laparoscopie per ottenere una gravidanza addizionale rispetto al non far nulla. Questo, se tutte le donne sottoposte a laparoscopia per cosiddetta infertilità spiegata, avessero realmente l'endometriosi peritoneale, cosa che sappiamo non essere vera perché non più del 50% di queste donne in realtà hanno l'endometriosi. Quindi, come correttamente indicato dalle linee, le ultime linee guida a escire, il number need to treat va raddoppiato, sono 25. E se prendiamo le linee guida della SRM sull'infertilità ed endometriosi, la laparoscopia per endometriosi peritoneale viene sconsigliata. Quindi, in questa situazione, situazione, torno un passo indietro, faccio una premessa. È ovvio che qui stiamo affrontando l'argomento fertilità, ma molte donne con endometriosi non hanno solo infertilità. Molte donne hanno anche dolore e hanno anche situazioni aggiuntive, che adesso vedremo, in cui ovviamente il bilancio pende più verso la chirurgia e rispetto alla fertilizzazione in vitro. Qui stiamo selettivamente isolando il problema dell'evidenza sulla fertilità. Per quanto riguarda la endometriosi ovarica, le cisti ovariche, nonostante i decenni di ricerca su questo argomento, ancora non ci sono studi randomizzati, controllati, sull'efficacia della rimozione delle cisti endometriosiche in termini di risoluzione della fertilità. Questo è un insieme di dati, ma voi vedete che c'è anche una discreta eterogeneità dei dati. Diciamo che complessivamente, complessivamente, una metà di donne con endometriomi ovarici in cerca di una gravidanza, dopo una laparoscopia, riesce a rimanere gravida. Tuttavia, in tutti questi studi, noi non sappiamo se queste donne erano effettivamente infertili prima di sottoporsi alla chirurgia. E questo, come vedremo, è una domanda molto importante, perché tre anni fa il gruppo di Genova ha pubblicato uno studio che ha fatto scalpore, molto interessante, 244 donne con endometriomi superiori a due centimetri che non avevano ancora tentato di rimanere gravide. Orbene, di queste, l'ovulazione si è distribuita equamente sia sull'ovaio sano che sull'ovaio malato. Tutte queste donne avevano un endometrioma unilaterale. Ma quel che è più interessante è che complessivamente più del 40% di queste donne, che non avevano ancora tentato una gravidanza, quindi non si sapeva se erano infertili oppure no, in realtà ha ottenuto un concepimento. Per quel che poi può interessare per il discorso successivo, voi vedrete che il concepimento è stato anche piuttosto alto, superiore al 40%, nelle donne che avevano anche delle lesioni profonde oltre agli endometriomi. A questo punto uno si potrebbe chiedere, ma quindi io, che vantaggio addizionale sto dando a questa donna, se queste donne sono rimaste gravide senza chirurgia, soltanto aspettando. Certo, questo studio va replicato, è un unico studio e necessiterebbe di essere replicato. Sappiamo anche, qui vi ho messo una diapositiva molto famosa, ma ci sono stati diversi studi successivi, ma i risultati sono tutti uguali. Sappiamo anche oggi che quando noi interveniamo per effettuare una rimozione di cisti endometriosi che in donne infertili, da una parte abbiamo l'obiettivo di aumentarle le probabilità di gravidanza, dall'altra parte sappiamo che le diamo un danno, piccolo o grande danno, in termini di riserva ovarica, e questo quindi è un limite della chirurgia, al punto che più del 10% delle donne che vengono operate per endometriomi bilaterali, successivamente ha un danno ovarico grave in termini di mancata, pur rispondere appunto in termini di mancata risposta o scarsa risposta a una successiva stimolazione gonadotropinica. E molti autori sostengono che i risultati che noi otteniamo dopo che abbiamo operato un ovaio unilaterale siano dovuti in realtà alla funzionalità dell'altro ovaio che non è stato operato. E vi sono autori che hanno pubblicato recenti review su Acta Scandinavica pochi mesi fa, che addirittura sostengono che bisognerebbe stare molto attenti, bisognerebbe astenersi dalla chirurgia. Io francamente non prendo posizione su queste affermazioni, ve le segnalo ma non è detto che le condivida. Inoltre prendiamo in considerazione l'eventuale chirurgia prima di una fertilizzazione in vitro. Direi che oggi c'è sufficiente consenso sulla necessità di astensione da una chirurgia se le cisti endometriosiche non vanno a interferire con l'aspirazione delle cellule uovo. I rischi che si corrono sono modestissimi e non è mai stato dimostrato un vantaggio in termini di una significativa differenza di concepimento dopo fertilizzazione in vitro con endometriomi in sede rispetto a endometriomi operati. E di fatti Sommigliana sostiene che se gli endometriomi sono inferiori ai 4 centimetri non vadano, gli uniloculati non vadano toccati. Arriviamo adesso, quindi entriamo nella questione più spinosa, perché allora i problemi che abbiamo precedentemente visto sono in realtà, va bene, non semplicissimi da spiegare alle pazienti, ma c'è un fatto che una laparoscopia per endometriosi peritoneale o una laparoscopia per cisti endometriosiche nella gran parte dei casi non è una procedura chirurgica ad alto rischio, è una procedura piuttosto semplice, quindi il rischio di danno tutto sommato è abbastanza limitato. Quando quindi noi mettiamo su uno dei piatti della bilancia i potenziali svantaggi, noi mettiamo sì dei pesi, ma sono dei pesi limitati. Quando invece noi ci addentriamo nell'endometriosi profonda, noi sappiamo che l'endometriosi profonda è una chirurgia che può essere molto difficile, quindi può essere effettuata non da tutti, devono esserci chirurghi tecnicamente molto competenti, perché dalla competenza tecnica di questi chirurghi dipende il rischio di danno e il rischio di successiva gravidanza. E quindi qui va valutato molto bene e c'è un punto essenziale. Gli studi che noi abbiamo disponibili sul trattamento chirurgico dell'endometriosi profonda soffrono di un evidente problema, la non replicabilità. Noi sappiamo quali sono i risultati nelle mani di quel chirurgo. Non sono trasferibili questi risultati in tutti gli ospedali, anche di riferimento regionale, che però hanno chirurghi non adeguatamente preparati, non egualmente preparati. Sappiamo un fatto, perché questo è un fatto, che anche nelle mani dei migliori chirurghi, una donna su 20, tra una donna su 20 e una donna su 10, soffrerà una complicazione chirurgica maggiore. Alcune di queste sono complicazioni importanti. Alcune donne avranno una vescica neurologica come minimo per 3-6 mesi, qualcuna ce l'avrà per sempre. Il 3-5% delle donne avranno una fistola rettovaginale. Avere una fistola rettovaginale è un problema molto serio, nel senso che va effettuata una diversione intestinale, bisogna aspettare tre mesi, bisogna correggere la fistola, mantenendo la diversione intestinale, dopo altri 1-2 mesi va chiusa l'astomia. Insomma, è un bel calvario. Quindi bisogna stare molto attenti a quali sono i potenziali benefici, perché noi mettiamo sui piatti della bilancia, dalla parte degli svantaggi, a questo punto un peso molto importante che dovrebbe essere equilibrato da un vantaggio molto importante. Corro grossi rischi, voglio grossi benefici. Quali sono le evidenze? Allora, sempre studi non comparativi, sempre studi retrospettivi oppure prospettici non comparativi, insomma case series, che complessivamente ci dicono che poco più di un 40% di queste donne dopo la chirurgia rimangono gravide, ma noi non sappiamo se erano infertili anche prima, perché se noi andiamo selettivamente a isolare le donne infertili prima della chirurgia, vediamo che la percentuale di probabilità di concepimento scende parecchio e si attesta a poco più del 25% circa. Quindi noi non sappiamo a questo punto quale beneficio addizionale noi stiamo dando a queste donne rispetto al non far nulla e quale beneficio, se ce n'è, quale vantaggio noi stiamo dando rispetto a un'eventuale fertilizzazione in vitro. Ad esempio, in un nostro vecchio studio pubblicato diversi anni fa, grosse differenze tra operare o non operare donne con forme rettovaginali, stiamo parlando appunto di donne con forme rettovaginali, non ne abbiamo osservate e dopo circa un anno un po' meno di un terzo delle donne comunque rimanevano gravide. Di nuovo il gruppo di Genova pubblica l'anno scorso dati certamente interessanti, parzialmente discordanti con i dati di due anni prima, dove tuttavia sono donne con endometriosi rettovaginale e seguite prima di una ricerca di prole, quindi di nuovo non sappiamo se queste donne fossero sì o no infertili. E vediamo che c'è una differenza, sì c'è una differenza se ad esempio noi andiamo a confrontare chirurgia per endometriosi rettovaginale versus expectant management, noi vediamo che sì c'è una differenza, certamente un 15% di differenza, lo studio anche qui dovrebbe essere riplicato, se questo 15% di differenza è sufficiente per bilanciare i rischi di danno, questo va, il giudizio varia da donna a donna, inoltre teniamo conto che qui ci sono donne che non necessariamente erano infertili prima della chirurgia, quindi questo delta, questa differenza probabilmente se replicata su donne sicuramente infertili si ridurrebbe, quindi il vantaggio è quasi certamente inferiore a quello indicato. Cosa può dare la fertilizzazione in vitro? La fertilizzazione in vitro in questi casi, secondo i dati disponibili in letteratura, può dare ben di più, tuttavia come vedremo in questi casi la fertilizzazione in vitro può dare anche altri svantaggi, altri rischi di danno molto importanti e che noi generalmente non consideriamo. Allora arriviamo all'ultimo capitolo, la resezione colorettale, c'è stato un sacco di polemiche su questo capitolo e stiamo parlando ovviamente della resezione discoide e la resezione colorettale segmentaria, quindi con apertura del lume intestinale, non stiamo parlando dello shaving, perché è l'apertura del lume intestinale, del grosso intestino, che fa la differenza in termini di incidenza, di complicazioni serie. Una recente review sistematica della letteratura dimostrerebbe che il vantaggio dall'essere ultra radicali, cioè asportare anche le lesioni intestinali con apertura del lume intestinale, rispetto al trattare soltanto l'endometriosi profonda, ma non toccando l'endometriosi intestinale, è un vantaggio abbastanza limitato, siamo nell'ordine del 5% in più, quindi il vantaggio dell'ultra radicalità sembrerebbe molto piccolo. Sempre su Acta Scandinavica è stata pubblicata una recente review sistematica della letteratura, non ci sono studi randomizzati controllati, sono soltanto studi non comparativi o retrospettivi o prospettici, in questo caso sono i retrospettivi e voi vedete che sì, d'accordo, abbiamo il solito 49 più o meno, 49-50% delle donne che rimangono gravide, non sappiamo quante erano veramente infertili prima, ma notiamo anche una sostanziale eterogeneità dei dati, perché noi andiamo dal 21% di Meuleman al 61% di Malzoni. Ottimi chirurghi tutti e due, ma c'è una differenza abissale, ci balla un 40%, quindi eterogeneità molto importante. Fare la media di questi dati lascia un po' perplessi. La stessa cosa la vediamo sui dati prospettici, che peraltro sembrerebbero meno favorevoli, ma in ogni caso quello che colpisce è l'eterogeneità dei dati, perché qui andiamo dall'8% di Minelli al 50% di Romain. Quindi dove sta la verità? Anche qui ci balla il 40%. Va bene, facciamo la media, ma cosa ci facciamo poi con questa media è un po' difficile capire. Possiamo veramente proporre questa media alle nostre pazienti? Non lo so. Inoltre, chirurgia, e qui arriviamo a un punto che è piuttosto importante dell'attuale fase della medicina riproduttiva. Vi sono diversi autori che propongono la resezione colorettale prima della fertilizzazione in vitro, quindi come procedura facilitante l'outcome della fertilizzazione in vitro. Io penso che qui siamo in un terreno veramente delicato, perché questa è in assoluto la procedura più rischiosa che sia mai stata progettata ed effettuata nella medicina riproduttiva. E quindi qui veramente noi dovremmo avere delle evidenze estremamente robuste. Che cosa dice la letteratura fino ad ora? La letteratura fino ad ora dice che sostanzialmente benefici non sembrano essercene, eventualmente il contrario, ma comunque diciamo che non ce n'è. Tuttavia, qualche mese fa, su Fertility e Stelliti, viene pubblicato uno studio del gruppo di Romain che dice che invece vi è una bella differenza, perché se si fa una resezione colorettale prima delle fertilizzazioni in vitro, la pregnancy rate è il 60%, comparato con il 36% delle donne che fanno direttamente la fertilizzazione in vitro senza la resezione colorettale. Piccolo particolare che io non riesco a capire, non mi do, non riesco a darmi una spiegazione. Buona parte di questi risultati è dovuto a questo, eh? Cioè, la differenza di gravidanza a termine è dovuto in buona parte al fatto che le donne che non hanno fatto una resezione colorettale hanno abortito molto di più rispetto a quelle che l'hanno fatta. Il razionale di questo non mi è chiaro e questi studi credo che dovrebbero essere replicati, ma c'è in corso uno studio francese proprio su questo argomento. Ma nonostante questo e nonostante il fatto che sia sostanzialmente anche, se vogliamo, molto difficile discriminare l'effetto specifico della resezione colorettale rispetto all'effetto di tutto il trattamento di tutte le altre forme ovariche, come facciamo a discriminare proprio il fatto che quella donna lì ha fatto la resezione colorettale e a dare un peso a quel tempo chirurgico. Nonostante questo, il messaggio che passa è questo, cioè che le donne con lesioni intestinali, e ovviamente stiamo parlando di lesioni non occlusive e nemmeno subocclusive, perché se fosse un'endometriosi intestinale occlusiva è un'emergenza chirurgica indipendentemente dalla fertilità, ma anche se fosse solo subocclusiva, ma è ovvio che ci sarebbe una ragione assolutamente al di fuori della fertilità per operarle, quindi sono forme non subocclusive, che se non fossero che devono andare incontro a una fertilizzazione in vitro potrebbero tranquillamente evitarsi la chirurgia. Allora, inoltre altro piccolo problema concettuale che di nuovo a me sfugge. È sempre stato detto che le donne che hanno endometriosi colorettale hanno un'altissima frequenza, con altissima frequenza hanno adenomiosi, adenomiosi che noi non possiamo operare. E quindi, se non la possiamo operare, come spieghiamo quei risultati quando sia in ambito di chirurgia, sia in ambito chirurgico, vi è un enorme effetto dell'adenomiosi, con riduzione relativa del 70% di probabilità di concepimento, ma anche con la fertilizzazione in vitro. Abbiamo una riduzione relativa del 30%. L'adenomiosi, non la trattiamo chirurgicamente, l'adenomiosi diffusa, però c'è e il suo effetto permane. Allora, quindi dobbiamo andare direttamente alle conclusioni. Quali sono le conclusioni, per carità mie, e partendo dalla considerazione che l'evidenza che noi abbiamo a disposizione, a parte l'endometriosi peritoneale, è veramente di bassa qualità. E quindi è davvero difficile arrivare a fare quei bilanci tra potenziali benefici e potenziali danni di cui ho parlato all'inizio. Però diciamo che per quanto riguarda l'endometriosi peritoneale c'è un consenso tra tutte le società scientifiche internazionali che la fertilizzazione in vitro va molto meglio. Per quanto riguarda la malattia ovarica, vi sono pareri discordanti. Io penso che bisognerebbe tener conto anche di tanti altri fatti e penserei che la chirurgia dovrebbe avere un suo ruolo nelle forme ovariche. Mentre se è una recidiva, allora probabilmente bisogna stare molto cauti per non andare a ledere davvero in modo troppo importante la riserva ovarica. E quindi in quel caso, in caso di recidiva, la fertilizzazione è suggerita sia dalla ESCRE che dalla SRM. Chirurgia prima della fertilizzazione in vitro, molti, molti dubbi. La chirurgia per malattia rettovaginale non dà benefici, non dà un beneficio più grande rispetto alla fertilizzazione e quindi la fertilizzazione dovrebbe essere la scelta migliore per queste donne. Mentre prima della fertilizzazione in vitro, soltanto in un setting di ricerca. La stessa cosa vale, secondo me, per le lesioni colorettali. Ma un'ultima considerazione di cui parlavo prima. È evidente che se la donna ha un dolore intollerabile, oppure se la massa ovarica è di natura non chiara, se ci sono degli idrosalpingi e se la donna vuole un concepimento naturale, è ovvio che la chirurgia è l'unica alternativa. Ma in tutto questo discorso, in tutto questo discorso, quello che noi dobbiamo fare è fornire alla donna i migliori dati a disposizione e spiegare tutti i dubbi. Non dobbiamo aver vergogna di non sapere. Non sappiamo noi, non sa il mondo intero e noi esprimiamo alla donna anche le incertezze e sulla base di tutte queste informazioni la donna, in base alle proprie priorità, sceglierà ciò che è meglio per lei. Grazie.